buon pomeriggio amiche buona domenica evviva è domenica il giorno preferito della lallix però è il sabato ma anche la domenica non ci fa dispiaciare e prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista ciao a tutti amiche com'è bello il sabato che davanti sia la domenica la domenica è un po' meno perché sia davanti lunedì però amiche non ce ne frega nulla siamo contenti è domenica guardiamo il bicchiere mezzo pieno invece che guardarlo mezzo vuoto era peggio sera martedì purtroppo arriva anche il martedì giorno collinetta da me tanto odiato questa settimana non me ne ero nemmeno accorta a una certa che era martedì incredibile sono volati giorni talmente veloci e finalmente ne dico la grazie a una di voi ho saputo che c'era grazie a una di voi abbiamo saputo che c'era grazie ciao amiche troppe grazie in questa frase comunque grazie tantissimo che me l'hai segnalato se no non mi sarei assolutamente accorta mi è dispiaciuto non essere riuscita a andare il giorno in cui me l'hai detto o il giorno dopo però amica non ce l'ho fatta tutto di corsa tra l'altro avevamo 1700 cose da fare quella sera quel giorno e l'edicola era già chiusa quando ci ho pensato e quindi sono andata il giorno dopo e per fortuna abbiamo trovato ben due grazie ma voi direte che brava che sei stata all'alexander quando tu marito la mica non ce la facevo stavo lottando con la lavatrice con l'asciugatrice e io ho detto una lotta dura e alla fine chi ha vinto la lavatrice la lavatrice vince sempre lei maledetta vince è incredibile vince sempre non lo so è troppo forte per me non ce la faccio vincere comunque amiche ero presa a male perché volevo assolutamente lavare questi vestiti a mano voi direte che ne avete e sì siamo in cinque in settimana amiche faccio poco e nulla e quindi dovevo assolutamente fare delle cose che stavo procrastinando sapevo lo uso una volta al giorno almeno ormai che ho imparato questo vocabolo lo dobbiamo utilizzare così lo memorizziamo amiche a parte gli scherzi non ce la potevo fare perché ero rintronata non ero vestita nel senso che ero tipo amiche in pigiamino che stavo facendo le pulizie che non è da me ero truccata di tutto appunto ma in pigiamino in vestaglietta amiche che stavo facendo le pulizie come proprio le sciure da altri tempi tutta spettinata col coconda lottatore di sumo il make up perfetto vabbè ci sta non fa una piega però ormai ero immersa in questo magnifico mondo di carica la lavatrice stendi la lavatrice piega la lavatrice e mille cose così dentro casa lava i banni stendi i banni lava i banni stendi i banni e quindi ho detto al marito me lo faresti sto favore quando esci per prendere a scuola la nostra dolcissima regista potresti tu gentilmente andare nel negozio detto edicola e comprare proprio in cuore come si dice approvvigionare il giornalino con dentro il make up non vi dico la faccia del marito così io vedi altri mariti non vedo altri mariti quindi tu vabbè e cosa dovrei dire nulla se per caso ti chiedono se ne prendi più di uno e ti chiedono qualcosa tu di è uno per mia madre uno per mia moglie uno per mia su acera e uno per mia figlia così non ti fanno storie perché amiche noi li dobbiamo provare poi i giornali veramente lo diamo alla mamma alla zia alla regista e ai parenti tutti però mi tengo il make up per provarlo è scurba d'altro ne lo abbiamo pagato amiche giornalino rimborsiamo al marito i 2 euro e 50 tra l'altro costa pochissimo 2 euro e 50 stiamo tornando ai vecchi tempi dei tempi in cui grazia amica gioia mettevano questi bellissimi premi che a volte erano un piccolo campioncino di profumo che sinceramente adesso amiche del tempo del profumo non me ne frega assolutamente nulla ma sono troppo contenta che stiano mettendo il make up di catrice io felice sono super contenta e adesso li apriamo e vediamo un attimo cosa abbiamo trovato ancora un'edicola sicuramente da andare a vedere e magari la potrei ancora trovarne uno e poi se mai lo guardiamo o domani sera o dopo domani pomeriggio amiche allora il giornalino uno non lo apro perché nel caso non lo do toccato no lasciamo la plastica così e diciamo strano c'è un buco dopo un giornale e dicono perché c'è un buco quando passa dalle mani tue perché c'è l'attaccato qualcosa io me lo sono presa allora togliamo prima la la plastica qua che mi dà fastidio mi fa schifo la colla attaccata dietro a me che scusate un attimo tra l'altro è trasparente su trasparente non vado nulla e lo butto nel cestino che ho qua sotto il cestino e non nel pavimento mi raccomando non si buttano le cose nel pavimento si butta in una bustina o cestino al di sotto della scrivania non riuscirò mai a toglierlo sono super curiosa se oltre all'amica che ce l'ha segnalato altre di voi hanno comprato grazie in edicola col make up se sì cosa avete trovato bellissimo allora questo si chiama better than fake lips volume gloss ho paura plumping quindi buono un plume gloria 50 amiche ma quanti plumping stanno facendo non fanno più gloss di una volta solo plumping assomiglia tantissimo secondo me a questo qua di l'oreal però è un pochino più panna e questo è di catrice ed è un po meno perlescente infatti però a me la fastidia un sacco la plastica attaccata su c'è problema mio probabilmente ma lo sento tutto che attacca ancora allora lo apro e lo guardiamo c'è 250 buono no il plumping non ho idea di quanto costi a prezzo pieno il numero c'è ma io se stacco questo non abbiamo più il numero come devo fare lo metto un po più in alto allora aspettate che lo sposto perché il numero perché ovviamente lo dovevano sigillare ma ma è scoccio a togliere il numero no è lo 0 10 maximum glow che nel caso io ne volessi comprare altri so che numero e non lo compro 0 10 maximum glow fatemi sapere se anche voi ne dico l'avete trovato questo o se mari l'avete comprato direttamente dal rivenditore non so dove vende catrice nottino non so tu lo sai douglas nottino non ho idea ah io avevo comprato la palette non era metaface qualcosa metaface di catrice mi sembra di sì non mi sembrava quasi sì e l'ho comprato su douglas se non sbaglio quindi forse su douglas c'è tra l'altro ce l'ho qua quella sì sì catrice ok questo l'avevo comprato e non l'ho neanche pagato poco questo amiche c'hanno odore che non odore adesso lo annuso perché questo veramente è puzzecchia e non l'ho non ho il coraggio non ho avuto amiche comprato da un mese e mezzo fate conto che io non ho avuto coraggio di provarlo eh vi ho detto tutto e mo sentiamo questo no buono buono sa di plumping percepisco già il pizzicore e mi pare che qua non ce l'ho qua mi pareva di aver preso lip balm in un altro giornale sempre di catrice se non mi sbaglio varo ho preso su amazon mi pare ma anche su sì 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 ma anche d'estate nel giornalino che li avevamo unboxati addirittura al mare non lo so dov'è amiche perché ce ne sono pochi e questo è il problema ce ne sono ah eccoli qua no erano essence ero convinta che questi fossero di catrice erano nel giornale quest'estate e sanno di buono questi sanno di caramella questi erano di essence voi direte ma non ce ne frega nulla questi erano d'estate no? sì sì nel giornale e mi sembrava questi erano uno ero stata contenta di trovare due colori uno più chiaro uno più scuro però sono di essence invece questo è di catrice molto molto bello quindi non mettono sempre la stessa marca ecco era questo che mi interessava capire a volte mettono essence a volte mettono catrice e la palette che abbiamo trovato invece l'ultima volta era di catrice mi pare che abbiamo l'ho anche provata in un video della mattina amiche che disastro mi pare catrice ma non sono... si sembra anche a me allora questo non era nemmeno attaccato ma la colla ce l'hanno voluta mettere uguale si è tolta tutta in un unico colpo e la proviamo allora è matt non mi piacciono a me i matt numero 0 20 che parola per il colore non lo so se lo posso dire scandalous eh ma è il nome del colore è il nome del colore ah ovviamente c'ha 47 sigilli amiche aspettate che tiro ma perché sigillano ma perché ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono stata bravissima allora innanzitutto guardiamolo da vicino ecco il numero perché interessa anche a me il numero mi interessa sempre 0 20 e voilà ma però bello però bello sento odore di zia carlotta al vibe di zia carlotta troppo troppo e lo dobbiamo per 2 euro e 50 fatto bene cioè non è liscia a volte se ne si pagano molto di più quelli sì 2 euro e 50 ma sul serio e poi colore anche che piace a te infatti amiche questo con questi make up che si usano adesso con fuori la matita marrone e dentro sfumate un tocco di gloss sopra tra l'altro insieme perché mettiamo prima questo e poi ci puoi mettere sopra il plumping dicono di no le amiche ma io sono strana io metto però oggi ho messo ma ce l'ho di qua questo qua che non è plumping sopra è solo gloss e di chi di chi è? v7 w7 io troppo international w7 chissà se si dice così amiche mica lo so figuratevi se lo so allora vi dico la sincera verità amiche luciamo questo nella mano questo non me la sento abbiamo guardato no? nella mano che questioni infatti l'abbiamo no no buono buono non sa di non ha un brutto una brutta profumazione mi piace non si vede assolutamente nulla ma no no amiche vi dico la verità non me lo provo sulla mano perché l'altra volta ho provato i plumping qua sulla mano di Bella Oggi e un altro che cos'era? L'Oreal mi sembra? sì quello di L'Oreal amiche ostionata avevo tre due di L'Oreal e uno Bella Oggi avevo precisamente tre così con la pelle che si era inciccionata alta e che faceva male? molto era tutta brutta la mano sembrava bruciata? bruciata si avevo tre scottature nella mano quindi quello ci fa sulle labbra no? però probabilmente sulle labbra è un'altra tipologia di pelle per la quale passata un'ora o due perché poi anche sopra qua nella mano è più fine la pelle sì mi ha fatto tanto male amiche non lo farò mai più disuociare il lip planting però il rossetto so che si può non credo che pizzica allora sapete che io ci tengo tantissimo alle cose possono costare 40 euro come due ma io ho un grande rispetto per tutte le cose e anche ovviamente per le persone il rispetto va portato sia per le persone ma anche per le cose materiali perché comunque qualsiasi cosa noi compriamo io, voi e tutti gli altri sono comunque comprate con i soldi che lavoriamo no? quindi anche se è una cosettina che costa 2 euro io ho molto rispetto e non vorrei mai spezzarlo mai sbatterlo dall'altra parte quindi lo richiudo perché è stato bello vedere no? che è molto bello però lo richiudo e ne lascio fuori solo una piccola sembra una cosa ovvia e logica ma mica mi sono accorta non per tutti perché è una mia amica a cui voglio tanto bene non è nessun problema poi glielo ho spiegato ha suocciato un rossetto davanti a me tenendolo aperto così e l'ha allora innanzitutto quasi spezzato e poi l'ha incurvato all'indietro e quando l'ha chiuso ha grattugiato e mangiato via una gran parte tu non lo hai idea ed era suo eh non era mio cioè non importa anche se fosse stato mio amiche non era quello il problema era il fatto di farle capire con molto tatto e delicatezza quello che era successo perché comunque era suo il rossetto era nuovo e lei ci teneva un sacco a farmelo vedere mi fa guarda guarda che bello che è guarda che bello che è l'amica l'ha distrutto tra l'altro era anche un rossetto che costicchiava io allora con tutto come si può dire la gentilezza e il tatto di questo mondo ho provato a spiegarle che perché mi ha chiesto lei io non mi sarei mai permessa mi ha detto cosa ho sbagliato e lì ho detto guarda io lo tiro sì fuori per farlo vedere per vederlo io perché mi piace vedere il come si dice lo stick come si presenta e vedere che a volte come questo è molto molto bello però poi lo chiudo un po' e come fosse un gioiellino un po' delicato ne lascio solo una parte e faccio così in modo delicato vedete perché scrivere scrive lo stesso ma non abbiamo fatto amiche vedete sempre dritto perfetto non abbiamo fatto nessun danno infatti io adesso sì lo possiamo tirare fuori per far vedere secondo me è veramente molto 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 bello bellissimo spettacolare non ha profumo forse sa retrodare caramelline cocco facciamo sentire alla regista perché io adesso ne ho annusati tanti amiche non sento più però ha una sensibilità elevata alla regista per le profumazioni e questo le facciamo sentire allora mi passi questo e io ti passo questo ci dice quindi questo amiche sa di cocco il rossetto Matt quello di niente è abbastanza neutro cioè non sa neanche di plumping non si sente la menta non sa neanche di menta di cannella quindi per me va bene perché io non amo che si sentano troppo sì perché alcuni che abbiamo provato erano molto speziati e troppo da magari specialmente tu che lo usi alla mattina magari da un po' boh un po' così mi sai che mi sta piacendo sì allora poi verso amiche mentre sto lavorando verso magari le dieci e mezzo così per svegliarti fuori sì mi cala un po' la palpebra allora cosa faccio prima mi bevo un caffè e poi mi do una passata di plumping quello al peperoncino di Bella Oggi oppure quello il plump duck plump di NYX che sono molto forti che è una botta di e quindi vedi amiche vedete caffè e plumping così una molla specialmente quello di NYX che dici che è subito parte subito quello di Bella Oggi invece è un po' così finché arriva però sai che mi aiuta? cerco ovviamente di non ingerirlo io lo metto soprattutto nella parte esterna perché penso che non faccia bene comunque no? ingerire i prodotti che siano gloss che siano rossetti che siano plumping ma alla fine il rossetto anche quando se mangi comunque sto attenta io sai cosa faccio poi se devo mangiare? tampono sempre la parte interna eh ma un po' comunque inevitabile sì sto attenta sto attenta comunque un po' e se no un po' io lo tolgo poi se mai me lo rimetto ma non mi va di mangiarlo sì sì no ma dico un po' inevitabile che ma io lo tampono sì ma poco poco lo tolgo lo tolgo sì sì ok o tampono non mi interessa averlo mentre sto mangiando se mai poi lo rimetto poi sapete che io non sono grande fan del rossetto io sono una grande ma grande grande proprio enorme fan dell'ombretto amiche la mia vita l'ombretto io lo amo l'ho sempre amato da che ho memoria e di memoria va veramente indietro negli anni però bello io me lo dico da sola oggi e ci sarebbe stato bene anche questo anche secondo me qua sì oggi sono contenta di questo make up mi piace un sacco aver messo lo stickers donuts penso che lo riproporrò lo riutilizzerò anche in colori diversi il donuts e quest'idea make up cioccolato fondente secondo me sì potremmo farlo anche più scuro forse o no boh forse perché l'ombretto è tanto scuro quindi no boh secondo me è bilanciato bene sì a me piace tantissimo mi piace veramente tanto e vedete a volte mi sveglio che sono verde mi sveglio che sono arancione mi sveglio che ho il mood giallo oggi avevo il mood mica tanto nude proprio cioccolato fondente perché mi sono svegliata con la voglia di cioccolato infatti avevo quasi mezza intenzione di mangiare un cioccolatino la mattina presto poi ho detto resisto perché mi fa venire mal di testa ha fatto il make-up al cioccolato no ti hanno usato il gloss di Willy Wonka sì 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 ho messo quello ah quello ecco hai visto che lo sapevo sì ho messo il gloss sì che non ti ho visto sì il gloss di Willy Wonka al cioccolato e quindi sì amiche eh così a volte lo fa allora io oggi sono molto contenta ringrazio tantissimo la nostra amica che ci ha segnalato l'uscita di Grazia in edicola l'abbiamo comprati molto molto volentieri e quindi abbiamo accattato amiche il rossetto e il lip plumping con soli 5 euro 2 ore 50 e 2 ore 50 tu vuoi aggiungere qualcosa? eh abbiamo fatto vedere abbiamo detto cosa ne pensiamo amiche una cosa prima che mi dimentico io e la regista ci stiamo attrezzando per aggiungere una rubrica solo la domenica pomeriggio che pensiamo di chiamare scelti da voi fateci sapere se vi va nei commenti se questo nome per la nuova rubrica vi piace e voi direte eh sì ma cosa c'è nella rubrica nella rubrica faremo un video speciale che uscirà la domenica alle 3 del pomeriggio ma in sostituzione di qui? in aggiunta e come fanno a uscire le due alle 3? uno alle 3 e uno alle 5 hai detto che uscirà alle 3? l'idea sì alle 5 c'è l'unbox ah visto che avevi cambiato l'orario sì la registra è rimasta un attimo indietro però lo sapevo sì adesso esce la registra al 7 sì 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 alle 5 alle 17 esce l'unbox l'unbox con un prodotto nuovo sì sì e alle 15 di domenica ho pensato visto che mi avete chiesto insomma un pochino di video particolari quindi io me li sono segnati in un foglietto questi video che avete chiesto e ora ci attrezziamo riusciamo a fare allora già vi dico la sistemazione del make up però diviso in puntate perché se no è un disastro amiche io sono lenta per non fare anche cose troppo lunghe quindi la sistemazione della make up collection poi dobbiamo fare what is ve lo dico in italiano amiche cosa c'è nella mia borsa cosa c'è nel mio zaino cosa c'è cosa c'è cosa c'è nella mia testa nulla amiche quindi no questo lo rimettiamo giù dobbiamo farci le unghie assieme dobbiamo vedere gli stickers la collezione diciamo che poi dobbiamo aggiungerne tanti altri le stickers make up dopo dobbiamo vedere la collezione ma non amiche una collezione già ve lo dico i pochi gioiellini che ho presi in profumeria ma super colorati e super carini che mi avete chiesto sempre voi l'am tour non riusciamo a farlo mi dispiace al momento così penso più avanti potrebbe essere possibile perché non siamo tutti d'accordo a casa e sì il marito amiche non è molto d'accordo con l'home tour soprattutto perché girano sempre tipo trottole impazzite l'opinionista l'aiuto regista e la regista vabbè lei non è la difficoltà non la crea lei perché comunque lei anzi partecipe in questa cosa di solito dietro la telecamera essendo appunto lei la regista che non è nel senso che lei regge il telefono è nel senso che comanda e che poi non è con 2G infatti la regista vuol dire che è la mente di tutto questo che ovviamente non potevo essere io no no almeno no e beh insomma andiamo a Cesare quel che è di Cesare la mente di tutto questo amiche l'intelligence qua l'intelligence io non posso essere l'intelligence perché ne viene da secchi guardandomi si capisce no ma non è vero l'intelligence qua è la dolcissima la contribuiamo collaboriamo è troppo buona è modesta non so come fare troppo modesta comunque l'intelligence qua è lei che di solito dice tutte le cose intelligenti e propone anche crea le cose intelligenti quindi lei non è che regge il telefono lei al limite regge il joystick per zoomare e dà proprio le idee come amiche stile non lo so quelli che si sentono dietro nei programmi che ogni tanto si sente la voce di quello che è alla regia no che è quello che comanda uguale qua abbiamo la regista la regia che comanda ogni tanto si sente la sua sapienza dall'alto dall'alto la sua sapienza capirai capirò senza di te tutto questo non potrebbe essere possibile perché di solito le dritte più diciamo concrete le da lei di sicuro non le do io io ho la passione del colore amiche il brio dell'unicorno misto all'esaltazione di ridella questo unicorno e ridella in una scia di colori brillantinati tutto il resto è fuffa amiche tutto il resto sono bambole da pettinare nella mia testa quindi non c'è né pianta ornamentale bambole da pettinare e quindi la concretezza del tutto è data dall'ironia e dalla sapienza della nostra dolcissima regista però comunque col passare diciamo del tempo tutto sta andando al proprio posto tutto si sta sistemando sono felicissima di dirvi questo e quindi anche il marito se ne sta facendo una ragione quindi adesso ho detto di no ma più ma di cipio c'è speranza c'è speranza sì sì perché comunque il suo atteggiamento man mano nel tempo sta cambiando sta interagendo di più con tutta la situazione che si è creata e si sta ammorbidendo e quindi penso che a breve o viene ospite qua e un po' sa con noi le novità addirittura sì sì penso proprio di sì e probabilmente a richiesta questo verrà esaudito dal marito che noi abbiamo chiamato marito timido ma lui non è che gli piace molto quindi mi trattengo un po' da ridirlo troppo e l'home tour probabilmente più avanti quando magari anche l'opinionista o sarà un po' più grande e amiche prima ci vorrebbe anche una dita traslochi perché abbiamo i giochi ovviamente perché dove ci sono bambini è così giochi appoggia appoggia che tu sposti i giornalini le robe di scuola i giochetti tutto un po' ovunque perché io comunque amiche vi dico la verità perché poi siamo tra di noi no tanto chi ci sente cosa ce ne frega siamo tra di noi io vado a lavorare tutto il giorno tempo pieno no lo sapete vado la mattina presto torno il pomeriggio faccio le mie ore tempo pieno poi prepara la cena a volte controlla i compiti perché controllare un attimo serve perché sono comunque piccoli magari qualche domanda la fanno comunque vabbè prepara la cena sbuccia i funghi amiche i carciofi che sapete che io devo mangiare funghi e carciofi come se non ci fosse un domani richiedono tempo quindi fai queste cosettine rilassati anche un attimino pulisci quello che serve però non è che sto lì come una pazza furiosa a tirare su giochi, quaderni, giornalini giochi, quaderni, giornalini e quindi quelli amiche ci sono ma la casa è vissuta è normale che sia così e il marito si imbarazza quindi al momento che c'è un po' di intasamento di make up quando arriva per colpa mia un po' perché siamo in 5 e quindi giochetti ma niente di esagerato cioè se entra una persona dice normale perché no? sì sì anzi devo dire che l'opinionista è molto bravo perché lui riordina un sacco sbarazza dice metto bene questo tavolo perché c'erano queste cose in mezzo poi si arrabbia tantissimo con l'aiuto regista si riappoggia a qualcosa poi danno anche tantissimo aiuto sia supporto psicologico non sbriciolando mai per terra loro sono bravi stanno sul tavolo però probabilmente essendo una famiglia come tante delle persone normali come tante senza aiuto anche devo dire nel senso che non è che abbiamo una persona che viene a farci le pulizie che viene a stirare o che viene a stendere no abbiamo sì i nonni che danno una mano nel senso aiutare a tenere i bambini quando io sono al lavoro quelle due ore nel pomeriggio e la mattina invece loro sono a scuola oppure nei mesi d'estate ce li tengono i nonni oppure quando stanno male ce li tengono i nonni però non è che ho qualcuno che mi fa le pulizie che mi mette in ordine la casa noi siamo una famiglia normalissima non so se si era capito a parte che il fatto che io sia più colorata rispetto magari ad altre però per il resto siamo persone i vicini di casa normali siamo no? sì sì normale normale io non tanto però loro sì sono proprio i classici vicini di casa normali e quindi per questo a volte abbiamo un po' di disordine in casa e anche timidezza da parte degli altri membri della famiglia e che è un sentimento è un sentimento la timidezza non lo so uno stato d'animo non lo so amiche ho un po' di confusione non saprei dire però una timidezza che fa parte forse è stato d'animo uno stato d'animo non lo so amiche non lo so non ho idea comunque sensazione direi forse è una cosa che fa parte di questa famiglia un po' la timidezza che io invece non ho per nulla e quindi così però ci segniamo in un foglio e vediamo elettronico perché siamo nell'era digitale ci segniamo in un foglio elettronico tutti i video che dobbiamo fare che vogliamo fare chiesti da voi e li facciamo man mano no? a parte l'OMTUR che al momento è rimandato adatta da destinarsi ma che mi piacerebbe tanto fare ringrazio per averlo chiesto quindi sicuramente prima o poi lo faremo ma non in un diciamo momento vicino in un periodo sì molto vicino a questi giorni più avanti penso di sì così no? mi sento di dire e niente quindi se vi va amiche diteci consigliateci un nome per la nuova rubrica questa mini rubrica nella quale uscirà un video solo la domenica pomeriggio alle ore 15 sono un po' indecisa se farlo sia di sabato che di domenica ma ho paura di non riuscirci perché comunque questo video avrà bisogno di un editing più importante che farò in settimana e di gestione un po' diversa essendo un video diverso da quelli che facciamo di solito e quindi per ora ne mettiamo uno e facciamo il pilota due o tre pilota per provare perché ormai con i due video diciamo la routine di farne due ce l'abbiamo ora proviamo a fare il pilota di quello che introduciamo la domenica pomeriggio alle tre e capire come inserire vediamo se ce la facciamo come va se è troppo se è troppo amiche facciamo magari un ogni tanto però vediamo secondo me possiamo farcela perché adesso abbiamo diciamo preso il via con gli altri due e non ci farma più nessuno a fare gli altri due vediamo con questo però consigliateci se vi va il nome io avevo intenzione di mettere tipo richiesti da voi però non mi suona tanto carino come nome della rubrica adesso vediamo se alla regista viene in mente qualche nome top carino e se invece anche a qualcuna di voi viene in mente un nome carino scrivetecelo pure nei commenti tu vuoi aggiungere qualcosa? no no mi sembra che mi ha molto tutto allora io vi ringrazio per aver aperto questo video per essere arrivate fino a qua a guardarci a gustare con noi io spero speriamo di avervi fatto un po' di compagnia con questo video e vi ringraziamo tantissimo vi ricordiamo di schiacciare un pollicino se questo video vi è piaciuto di commentare dicendo tutte le cose che abbiamo indicato durante il video condividete se vi va esternamente il video agli amanti del make up agli amanti dei giornali con il make up in omaggio e a tutte quelle persone che vogliono vivere in un mondo allegro e colorato e spensierato in cui ci sarà come diceva la nostra amica nei commenti ieri e l'altro ieri più umanità più colore umanità per tutti amiche e gioia compagnia queste cose qua dai è sempre bello e se non siete ancora iscritti al canale questo è il momento giusto per farlo perché l'iscrizione amiche è gratuita e come dico sempre io c'era mancai a Tragosaburu come sempre vi mando un bacio grande 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 vi auguro una bellissima serata domenica domenica quindi cioccolata calda riposatevi nel divano abbracciate il vostro lui e la vostra lei il vostro cuccioletto del cuore che può essere un bimbo il marito la fidanzata oppure un cagnolino un gattino non so schiamante magari di animali diversi ok io non giudico ognuno ha l'animale che vuole ce ne sono anche altri di carini come per esempio il coniglio ma so che tanti magari hanno tipo un pitone ma non lo so non lo so penso che magari a tanti faccia compagnia anche il pitone e quindi amiche non giudico sono gusti il canarino il braccio la vedo dura la vedo dura però una mia amica ha un inseparabile e se lo tiene sempre in braccio e quindi magari a chi ha l'inseparabile in braccio si coccola l'inseparabile o il cricetino quindi amiche io vi auguro una splendida serata e vi mando come sempre un bacio grandissimo ciao amiche al prossimo video buona serata ciao amiche ciao amiche